Io per esempio, professore, a tutto rinunzierei, tranne a questa tazzina di caffè presa tranquillamente fuori dal balcone dopo quella mezz'oretta di sonno che uno si ha fatto dopo, anzi, sapete, quel po' che ci stai dipendendo... Anche Eduardo, come racconta nella scena più popolare di questi fantasmi, non sapeva rinunciare alla tazzina di caffè, presa la mattina appena sveglia, assaporata al bar prima di entrare in ufficio, sorseggiata a fine serata, magari nella versione DEC, per non guastare il sonno. E ogni anno nel mondo si riempiono 3,1 miliardi di tazzine, la maggior parte in Europa, cifra che oggi, giornata internazionale del caffè, fotografa il consumo della bevanda amata ad ogni latitudine. 2,25 miliardi di euro, il controvalore delle esportazioni italiane di caffè per un mercato che nel mondo garantisce un reddito a 25 milioni di famiglie. E se il 95% delle piantagioni è in mano a piccoli coltivatori, il chicco di caffè scatena piccole guerre per accaparrarsi terreni, specie in Africa, terreni piantagioni che la crisi climatica erode sempre più, tra desertificazione e fenomeni estremi che rovinano le coltivazioni. Così, nella tazzina alla quale ogni giorno non possiamo rinunciare, come Eduardo, c'è molto di più di un semplice caffè.